continuiamo col nostro discorso riguardo alla redditorietà in javascript e vediamo ora che cosa ci viene messo a disposizione dalle caratteristiche un po' più moderne del linguaggio quindi come possiamo scrivere del codice che sia un po' più vicino a quello che siamo abituati a scrivere in un linguaggio a programmazione oggetti tradizionale quindi in S6, quindi dalla versione S6, quindi 2015, sono state introdotte delle funzioni speciali che sono basate sulla keyword class che al loro interno poi funzionano con i meccanismi che abbiamo visto prima, quindi con i prototypes eccetera però ci rendono la scrittura e la gestione delle classi, in particolare il meccanismo della creazione di nuovi oggetti e della redditorietà molto più semplice da realizzare tramite la scrittura di codice quindi in realtà non è che con S6 è stato introdotto il meccanismo delle classi come nel caso dei linguaggi oggetti tradizionali quindi separando la definizione della classe e le istanze, cioè i vari oggetti prodotti da quella classe ci sono sempre gli oggetti, c'è sempre il meccanismo dei prototypes ma scrivere il codice è diventato un pochettino più semplice come abbiamo due modi di definire le funzioni tradizionali, diciamo quelle che abbiamo visto finora in javascript abbiamo anche due modi di definire le classi, quindi tramite una dichiarazione, quindi come facevamo function qualcosa oppure tramite un'espressione assegnando la classe a una variabile gli oggetti vengono istanziati sempre tramite la keyword new, quindi questo non è cambiato vediamo i due modi, uno è la dichiarazione, quindi class rectangle come scriviamo function rectangle class più il nome che scegliamo e poi abbiamo la possibilità di inserire i metodi all'interno in cui c'è un metodo speciale che deve chiamarsi constructor, che è il costruttore della nostra classe notate che a differenza delle funzioni le dichiarazioni da classi non sono hoisted, quindi non sono portate tutte virtualmente all'inizio del file e quindi non possiamo usarle prima di averle definite a differenza appunto dalle funzioni, ma comunque non c'è in generale nessun motivo per farlo e anzi ve lo sconsigliamo perché appunto il codice diventa ovviamente molto meno leggibile, manutenibile e così via quindi diciamo questo è un metodo classico che assomiglia molto a quello che facciamo diciamo in un linguaggio a oggetti tradizionale con appunto semplicemente scriviamo constructo senza function, senza niente e diciamo essendo dentro lo scope di questa nuova keyword class questo diventa il costruttore della classe abbiamo poi le espressioni che diciamo sono l'analogo di quello delle funzioni e quindi abbiamo un meccanismo, anzi due varianti del meccanismo che è named, che sono quelle named e unnamed quindi assegniamo il valore di una classe ad una variabile, quindi avremo un reference a questa classe che in realtà appunto sotto come sappiamo è una funzione che può avere un nome oppure essere anonima e quindi la manipoleremo in entrambi i casi comunque come facciamo con le funzioni tramite il suo reference che è quello appunto che usiamo qui e per convenzione usiamo la lettera maiuscola quando ci riferiamo a delle classi questo non è obbligatorio ma è consigliabile appunto per una questione di convenzione anche queste non sono hoisted, quindi non sono portate virtualmente all'inizio del nostro file e quindi possiamo utilizzarle solamente dopo che esse compaiono per quanto riguarda il body, quindi la parte tra parentesi graffe della classe prima di tutto è sempre eseguito in strict mode indipendentemente da quello che facciamo all'esterno e poi ovviamente possiamo avere un solo costruttore nel senso che non possiamo avere più costruttori con parametri diversi ma tanto javascript questo lo gestisce in maniera differente e poi possiamo utilizzare la keyword super come in altri linguaggi di programmazione per richiamare il costruttore della classe da cui eventualmente redditiamo e le classi possono avere due tipi di metodi quindi oltre il costruttore i metodi di prototype e a questo punto capiamo che cosa vuol dire perché sono i metodi che verranno inseriti come proprietà della proprietà prototype della funzione sottostante alla classe oppure metodi statici che sono delle funzioni particolari vediamo prima i prototype methods la sintassi è questa semplicemente il nome del metodo con i suoi eventuali parametri e il suo codice quindi questo automaticamente essendo definito dentro una classe andrà a finire nella proprietà prototype della funzione corrispondente rectangle quindi questo avviene tutto senza che noi lo dobbiamo fare esplicitamente come abbiamo fatto nella prima parte di queste slide però è di fatto quello che avviene quindi questo metodo sarà poi condiviso da tutti gli oggetti che vengono creati con la keyword new tramite la classe rettangola quindi va ad aggiungere una proprietà che si chiama method name quindi in questo caso calcarea alla classe questo dal punto di vista dell'utilizzo quindi quando avremo un oggetto possiamo richiamarlo con oggetto calcarea però di fatto al suo interno va a fare quello che abbiamo fatto prima il nome è esattamente quello che usate poi con gli oggetti quindi nel momento in cui dobbiamo andare a utilizzarlo avremo un square new rettangolo e poi facciamo un square calcarea quindi analogamente a quello che facciamo in un linguaggio a oggetti diciamo tradizionale su un'istanza in più abbiamo dei metodi particolari che sono i getter resetters che sono in realtà un modo per definire delle pseudo proprietà quindi delle proprietà che potremmo chiamare in italiano virtuali nel senso che sono proprietà della classe che non esistono nel senso che hanno il nome che diamo al getter e al setter quindi perimeter in questo caso ma non esiste la proprietà perimeter seppur poi la possiamo usare come se effettivamente fosse una proprietà e nel momento in cui lo andiamo ad utilizzare in lettura andremo ad eseguire il codice del getter nel momento in cui lo andiamo a scrivere andremo ad utilizzare il codice del setter quindi nel momento in cui diciamo leggiamo una proprietà in realtà poi a livello pratico verrà eseguito il codice relativo alla funzione del getter quindi noi pensiamo di leggere una proprietà quindi che so square perimeter qui e in realtà stiamo chiedendo di eseguire il codice che può anche essere diciamo complicato quindi avere più istruzioni come per esempio in questo caso va a chiamare un'altra funzione che farà i suoi calcoli eccetera e ci dà un risultato quindi non è una semplice lettura di proprietà come invece ci potrebbe sembrare perché questa appunto è una proprietà particolare una proprietà diciamo così virtuale e stessa cosa succede quando assegniamo un valore non viene assegnato ad una proprietà ma viene chiamato un metodo apposito che ha il nome di questa proprietà virtuale e che farà eventualmente dei calcoli eventualmente può anche andare a modificare i valori interni dell'istanza quindi accedendo a delle proprietà col dis e così via e ovviamente non è possibile quindi avere una proprietà diciamo dis perimeter avendo anche dei chietter e dei setter questo va da sé perché ci sarebbe un conflitto di nomi abbiamo poi i metodi statici che sono introdotti dalla keyword static ma in realtà come i metodi statici di altri linguaggi oggetti non sono chiamati su delle istanze di classe quindi su degli oggetti e quindi di fatto non hanno a disposizione un oggetto su cui operare quindi il dis in questo contesto nel contesto di un metodo statico non ha senso non può essere utilizzato e non ha senso utilizzarlo e quindi l'utilità è semplicemente quella di sostanzialmente fare in modo di avere una funzione una funzione diciamo così normale che viene richiamata nello scope di una classe quindi non è visibile al di fuori della classe e quindi possiamo diciamo isolarne il nome dal resto del codice quindi quando lo dobbiamo andare a chiamare non potremmo fare semplicemente isWider ma dovremmo sempre scrivere RECTANGOLISWIDER e questo fa sì che diciamo ci ricordiamo che questa funzione che è appunto l'equivalente di un metodo statico è diciamo è stata definita dentro la classe RECTANGOLO semplicemente a livello diciamo di sviluppo del codice ci può rendere il codice molto più facilmente gestibile e leggibile finiamo diciamo al meccanismo dell'ereditarietà e come diciamo negli altri linguaggi e oggetti è stata introdotta un ulteriore keyword che è la keyword EXTEND e quindi possiamo definire una classe una nuova classe che estende una classe esistente già definita e diciamo in maniera molto simile a quello che facciamo con un linguaggio oggetti tradizionale e all'interno del suo codice possiamo avremo sicuramente un costruttore e nel costruttore possiamo usare per esempio la keyword super che abbiamo già usato tra l'altro e come la usiamo normalmente per richiamare il costruttore del metodo corrispondente nella classe padre quindi se la usiamo all'interno del costruttore richiameremo il costruttore della classe padre ma notate che a differenza di altri linguaggi è possibile anche andarla a chiamare il super in altri metodi che non siano il costruttore e richiamare quindi metodi che non siano il costruttore quindi possiamo usare il super sostanzialmente anche in altri metodi richiamando il corrispondente metodo della classe padre notate che tutto questo meccanismo non è che ha rimpiazzato il meccanismo dei prototipi lo ridico ancora una volta ma semplicemente è diciamo una una semplificazione sintattica che però all'interno diciamo del modo di processare diciamo le funzioni e le proprietà eccetera di javascript e di fatto ci svolge in maniera automatizzata quello che prima abbiamo visto nella prima parte delle slide fare a mano con diciamo il settaggio corretto del quadro prototype dell'aggiunta dei metodi sul prototype della funzione eccetera eccetera quindi sapendo come funzionano possiamo utilizzare questa sintassi semplificata e diciamo trarre vantaggio dall'utilizzo di un approccio di programmazione a oggetti e eventualmente utilizzando anche meccanismi di ereditarietà e così via però sempre tenendo a mente il modello sottostante nel caso in cui fosse necessario diciamo andare a capire effettivamente cosa sta succedendo a un livello basso nel codice vediamo ora a un argomento diciamo che che ci servirà molto nel proseguio perché di fatto ci consente di strutturare molto meglio i nostri programmi così come le classi ci consentono di andare a creare qualche cosa che diciamo è diciamo un po' isolato dal resto del codice che abbiamo scritto più incapsulato e così via il meccanismo dei moduli ci consente appunto di isolare quello che scriviamo nel nostro codice da quello che eventualmente può essere stato scritto in altre parti di codice per esempio librerie eccetera eccetera così da avere una programmazione molto più modulare ci sono fondamentalmente tre approcci che vengono utilizzati all'interno di javascript per diciamo separare il codice e organizzarlo in maniera razionale ed evitare di fatto che ci siano dei conflitti dovuti all'utilizzo di nomi condivisi che non si voleva che fossero condivisi e così via fondamentalmente i moduli ci consentono di nascondere i dettagli implementativi e mantenere il namespace globale cioè di fatto il valore delle proprietà dell'oggetto globale diciamo pulito in maniera da non dover definire variabili globali che interagiscono tra loro in maniera inattesa magari semplicemente a causa di un conflitto di nomi possiamo realizzare questo meccanismo in javascript in tre modi diversi uno è quello diciamo che abbiamo sostanzialmente già visto quando abbiamo parlato di IEFE che sono Immediately Invoked Function Execution un altro è quello dei moduli introdotti però solo da exmascript 6 da S6 che è stato però standardizzato e il terzo è quello diciamo usato oramai da molto tempo in Node.js che non è standardizzato e che si basa sulle closure che è poi lo stesso meccanismo che è alla base di tutto il resto quello che facciamo per incapsulare e isolare qualcosa all'interno di javascript che è sostanzialmente sempre la closure ed è il motivo per cui ne abbiamo parlato in maniera attenta all'inizio del corso nella parte di base di javascript quindi andiamo andiamo a vedere diciamo queste tre modalità tenendo conto che alla fine all'interno lavorano poi nella stessa maniera l'approccio a moduli di S6 diciamo essendo stato standardizzato sostanzialmente ha introdotto due nuove keyword che di nuovo ci aiutano e ci facilitano il lavoro nel momento in cui abbiamo bisogno appunto di andare ad utilizzare i moduli modo do it yourself quindi con le funzioni definite immediatamente invocate l'abbiamo già visto e nel momento in cui creiamo una funzione quindi apriamo uno scope di una funzione quindi queste graffe evidenziate in giallo tutto ciò che facciamo all'interno non è visibile all'esterno e quindi possiamo usare i nomi che vogliamo e fare tutto quello che vogliamo l'idea di questo tipo di funzioni era quella di avere le variabili interne quelle da isolare dal resto del codice e poi di ritornare un oggetto queste graffe azzurre sono quelle che definiscono un oggetto con una certa serie di proprietà tipicamente delle proprietà che sono delle funzioni che sono in grado di operare sulle variabili che abbiamo nascosto all'interno dello scope della funzione questo tramite il meccanismo delle closure sapete che appunto nel momento in cui definiamo queste funzioni che queste funzioni hanno visibilità sulla variabile quando siamo al di fuori e le richiamiamo possiamo sostanzialmente andare a accedere a questo valore perché abbiamo ancora riferimento a quel valore ma è solo quelle funzioni su solo quelle funzioni che hanno ancora questo riferimento e quindi possono fare accesso e tutto il resto del codice invece non può non potrà e quindi di fatto abbiamo isolato la parte di codice che ci interessava e siccome tutto in javascript può essere annidato questa parte di codice può anche essere relativamente complicata quindi contenere altre funzioni definite eccetera 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 sono funzioni immediatamente invocate perché vogliamo assegnare questo oggetto con i suoi metodi ad una variabile tramite la quale poi andremo a fare le nostre manipolazioni quindi questo Batman in questo caso sarebbe l'equivalente del nostro modulo vediamo ora il modo standard fornito da S6 in pratica un modulo modulo S6 è semplicemente un file javascript che esporta uno o più valori che possono essere di qualsiasi tipo previsto da javascript quindi possono essere oggetti funzioni variabili eccetera eccetera usando una keyword apposita che è questa export quindi un modulo è un pezzo di codice che viene eseguito nel momento in cui viene caricato ad un certo punto qualsiasi altro modulo javascript può importare le funzionalità offerte da un altro modulo usando un'altra keyword che è quella import questa operazione si può fare e si può fare anzi si deve fare solamente a livello top nel senso nel contesto globale anche perché altrimenti comunque sarebbe forse inutile e difficile da gestire quindi nel momento in cui iniziamo il nostro file o se vogliamo esportare funzionalità faremo poi delle export a livello appunto top e quindi non annidato all'interno di alcunché e se invece dobbiamo usare delle funzionalità faremo delle import dopodiché queste funzionalità diventeranno disponibili abbiamo due tipi di export che possiamo fare i cosiddetti named export di cui possiamo farne più per modulo o un default export dove non avendo un nome possiamo ovviamente esportarne solamente uno il default è più facile esportano un singolo valore uno solo per modulo e quindi non danno un nome e la sintassi è export default due parole chiave export default e poi possiamo esportare quello che vogliamo una variabile un oggetto una stringa una funzione e così via in questo caso per esempio stiamo esportando una funzione e ovviamente si potrà solo fare uno di questi questi sono tutti esempi ma solo uno è valido essendo il default i named export invece ci consentono di esportare uno o più valori in generale quando facciamo un modulo probabilmente vogliamo esportare più funzionalità per esempio più funzioni e così via quindi con export il valore il nome che viene esportato e quindi export costname luigi esporterà un valore che ha un nome name e poi il suo valore è possibile esportare più valori con questa sintassi quindi con le graffe attenzione che sono obbligatorie qui le graffe e mettiamo tra le graffe ciò che vogliamo esportare per esempio in questo caso sono due valori name another name tra l'altro li possiamo anche rinominare con la keyword as per farli vedere con un altro nome al di fuori del modulo quindi il modulo dovrà poi importarli non col nome name another name ma sarà name e teacher quindi si tratta solo di prendere un po' di confidenza con la sintassi per fare l'import la sintassi è simile import package from altra keyword e il nome del modulo gli import sono hoisted quindi possiamo fare in qualsiasi punto del codice e vengono portati all'inizio quindi sono visibili sin da subito però ovviamente tendenzialmente si fanno all'inizio sempre per una questione di legibilità e sono come delle viste read only sugli export dei moduli che andiamo ad importare dei package che andiamo ad importare esempio questo è il modulo che fa l'export fa un export di default di una funzione noi vogliamo importarlo facciamo import diamo un nome questo è il nome che decidiamo noi in questo modulo 2 to uppercase from e il nome del file modulo.js oppure potremmo fare un altro esempio usare un pass assoluto cosa in genere abbastanza rara e poi nel momento in cui abbiamo l'import vuol dire che possiamo usare la nostra funzione e questa funzione che sarà la to uppercase applicata al parametro che passiamo alla funzione e che ritorna questo valore la useremo con il nome deciso qui quindi la useremo per esempio con il nome uppercase abbiamo fatto questo input quindi chiameremo uppercase test che andrà a fare di fatto a ritornare test appunto to uppercase analogo operazione con i named export qui ne esportiamo due name another name e quindi noi li importiamo e li importiamo con questa sintassi aperta graffa name another name from e di nuovo anche qui quindi anche in fase di importazione non solo di esportazione e possiamo rinominare gli import quindi rinominarli come first second e poi usare quindi i nomi che abbiamo dato qui in questo modulo quindi first second quindi abbastanza semplice da capire almeno credo ovviamente abbiamo altre opzioni possiamo importare tutto spesso si vuole importare tutto quindi import asterisco oppure importare solamente una parte di quegli export quindi che so anche solo uno mi raccomando con le graffe è importante avere le graffe perché altrimenti l'unica volta che non ci sono le graffe è quando facciamo l'import del default potremmo avere anche un default più degli export con dei nomi e se li volessimo importare dobbiamo usare questa sintassi come funziona il meccanismo nei browser il meccanismo dei moduli S6 nel browser funziona come vedete qui sulla slide mettiamo il tutto il codice dei moduli in un file .mjs tendenzialmente è la cosa che si preferisce fare facendo attenzione che la configurazione del server sia corretta ossia che poi serva i file .mjs oltre che i file .js con il corretto content type negli header .http però questa è più una questione di configurazione del server però funziona anche diciamo col punto .js per chiarezza forse sarebbe meglio usare .mjs e nel momento in cui li carichiamo in html il meccanismo è molto semplice basta inserire un type module e questo viene trattato come module e quindi all'interno di questo file che andremo a caricare main.js o main.mjs potremmo potremmo andare a utilizzare degli import oppure fare degli export quindi solamente queste risorse caricate col tipo module possono usare le keyword import e export altrimenti il browser non le riconoscerà quando facciamo un import all'interno di queste risorse automaticamente i file corrispondenti verranno caricati e verranno caricati con il modo migliore che abbiamo suggerito essere migliore che quello defer quindi in maniera sincrona e eseguiti al termine del caricamento c'è da fare attenzione ad una cosa attenzione che fare questa operazione con i file html caricando i moduli tramite il protocollo se così lo possiamo chiamare file due punti cioè dal file system locale non funziona a causa di una questione che esploreremo poi più avanti quando parliamo delle questioni relative ai server web quindi si può provare a mettere su questo meccanismo ma di fatto abbiamo bisogno anche di mettere i file temporaneamente sul server web per fare questa prova e consentire il caricamento corretto i moduli di tipo S6 in OJS non sono diciamo non erano supportati fino a poco tempo fa e quindi adesso si comincia a supportarli nel node che stiamo utilizzando noi che è la versione 12 che è l'ultima versione stabile long term support si possono utilizzare ma è necessario avere l'accortezza di lanciare il node con il flag experimental modules e quindi va inserito per esempio se l'ho usato in viso studio da qualche parte in maniera che venga lanciato correttamente e è necessario usare l'estensione .amjs che è la cosa consigliata oppure specificare nel package json il type module però diciamo per un singolo file è una complicazione addizionale che forse non vale la pena quindi tanto vale usare .amjs nella versione successiva la 13 che poi piano piano arriverà a diventare la 14 che sarà di nuovo una LTS non è più necessario specificare questo flag e usando quindi l'estensione .amjs direttamente potremmo caricare questi moduli e trattarli direttamente come moduli S6 anche in node il meccanismo è molto più vecchio ed è quello che è stato utilizzato da node fino ad adesso e che in realtà continua ad essere utilizzato perché la gran parte dei moduli scritti per node li trovate in questo formato usa l'estensione js oppure cjs e il problema se così possiamo chiamarlo di questo tipo di approccio è che non è supportato nativamente dai browser o meglio si può supportare tutto come sempre basta andare a cercare una libreria c'è sempre una libreria che fa quello che cerchiamo e quindi c'è anche una libreria per supportare questo tipo di moduli però diciamo nativamente i browser non la supportano a differenza appunto dei moduli S6 dove appunto abbiamo la possibilità di caricarli facendo semplicemente attenzione come dicevamo a come li carichiamo col type module alla fine diciamo che il meccanismo di node come peraltro quello degli altri e si basa sempre sulla stessa idea che è quella alla base di tutto cioè delle closure cioè cercare di incapsulare il codice all'interno di una funzione perché nella funzione si crea uno scope che non è accessibile dall'esterno non è visibile dall'esterno e quindi di fatto stiamo incapsulando il nostro codice e quindi in pratica usare questo meccanismo dei moduli common.js significa scrivere del codice che però quando viene eseguito verrà poi eseguito tramite una funzione di questo tipo e quindi diciamo verrà isolato da tutto il resto quindi sostanzialmente possiamo definire delle variabili var, let, const eccetera a livello globale all'interno del nostro file che rappresenta il nostro modulo e queste verranno comunque isolate nel momento in cui lo carichiamo sotto forma di modulo per diciamo per includerlo all'interno di altre parti di codice ci sono tutta una serie di dettagli che si possono andare a vedere nel momento in cui vogliamo creare diciamo il nostro modulo per esempio abbiamo la possibilità di usare tutti questi parametri i cui più frequenti sono module e exports che vengono utilizzati vediamo un esempio pratico per esempio di import la cosa più facile che è abbiamo già usato abbiamo appunto scritto semplicemente const un nome che scegliamo noi uguale require e il nome del modulo il nome del modulo che può essere direttamente il file js può essere invece un nome da ricercare all'interno di una sottocartella particolare che è node modules che è tra l'altro quella dove vengono automaticamente di default installati i moduli standard quelli che installiamo con npm come abbiamo provato per esempio il laboratorio con readline sync e così via possiamo ovviamente specificare dei path se necessario e così via gli export col command js vengono fatti in questa maniera cioè nel nostro codice possiamo dobbiamo scrivere semplicemente export punto qualcosa quindi creare una nuova proprietà nella variabile exports che è quella che verrà utilizzata per fare l'export e quindi che so vogliamo esportare area e circonferenza creiamo due proprietà una che si chiama area l'altra che si chiama circonferenza e gli assegniamo le funzioni che vogliamo esportare proprio appunto queste sono arrow function che vengono assegnate alle due proprietà oppure qui nel caso in cui avessimo questo è un terzo esempio separato è un secondo esempio separato dal caso precedente possiamo scrivere anche module.export exports equivalente a module.exports possiamo usare entrambe le sintassi e qui abbiamo un solo export che è una classe e quindi esportiamo una classe che quindi potrà poi essere istanziata col new nel modulo dove viene importata avrà a disposizione i suoi metodi eccetera e con questo abbiamo sostanzialmente concluso il discorso su diciamo il meccanismo di ereditarietà di classi eccetera di javascript andando a vedere come funziona al suo interno e come è stato poi reso un po' più fruibile diciamo dal punto di vista pratico con le keyword class extends e così via che mettono a posto tutta una serie di dettagli e casi particolari anche che non abbiamo visto in tutti i dettagli e quindi sostanzialmente abbiamo visto un modo per scrivere del codice diciamo un po' migliore dal punto di vista della manutenibilità e gestibilità come può essere il codice scritto con un paradigma oggetti e poi abbiamo visto anche le questioni relative alla gestione di più file perché nei progetti più grandi chiaramente non è pensabile che il codice stia in un unico posto ed inoltre questo è anche il meccanismo utilizzato per andare a caricare funzionalità standard messe a disposizione da altri programmatori quindi di fatto delle librerie che vengono caricati in javascript tramite il meccanismo dei moduli e quindi siamo di fatto pronti per andare a cercare di sviluppare un progetto diciamo di dimensioni un po' più un po' più grandi rispetto a quanto abbiamo fatto finora nei lavori pratici che abbiamo svolto questo quindi conclude diciamo questa parte di javascript che ci consente diciamo di approcciare dei progetti un po' più grandi anche utilizzando funzionalità messe a disposizione da terzi e conclude anche questa questa lezione vi ringrazio per l'attenzione mi 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 mi